sabato 8 ottobre ci troviamo a pratizzano beach siamo io domenico e scheggia che non sappiamo dov'è niente intanto colgo l'occasione per salutare tutti quelli che ieri sera hanno partecipato alla porchettata saluto anche adriano mattioli poi andiamo a vedere cosa ci riserva il bosco sono già stati spostato fuori foglie perché non potevamo fare un video se poi non era lui adesso le spostiamo tutte direi che il gambo allora intanto facciamo una bella battuta perché così vi divertite sentite come suona poi lo andiamo a cavare secondo me il gambo non è malvagio pratizzano beach niente noi non ci fermiamo finché neve non ci separi ciao a tutti